GF VIP, sondaggi eliminato 23 febbraio, Antonella D'Amicole, Nikita messa in crisi. Chi sarà il prossimo eliminato dal grande fratello VIP del 23 febbraio 2023? Il prossimo giovedì sera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e... Ancora una volta, sarà il pubblico da casa ad avere voce in capitolo. Il televoto di questo nuovo secondo appuntamento settimanale con il reality show Mediaset. Infatti, prevede l'eliminazione diretta di un concorrente che dovrà abbandonare per sempre il gioco. Tra i candidati a rischio uscita, spicca anche il nome di Antonella Fiordelisi. Tra le concorrenti più discusse e al tempo stesso sostenute dai fan social. Nel dettaglio sono quattro i concorrenti a rischio eliminazione dal programma, Antonella. Antonino, Micola e Nikita. Le loro sorti sono nelle mani del pubblico sovrano di questa settima edizione. Il quale dovrà decretare il nome del prossimo eliminato. In queste ore circolano i sondaggi social su chi potrebbe avere la peggio a termine della prossima puntata serale. Anche questa settimana, il pubblico dovrà scegliere il proprio preferito, il meno votato sarà il concorrente eliminato dal gioco. Al momento, Nikita domina la classifica dei sondaggi su GF Vipforum con il 34. 82% insidiata da Mikol che segue con il 34, 36%. La giovane incorvaia, quindi. Potrebbe essere la rivelazione di questo televoto al punto da battere anche la favorita Nikita. Che nel corso delle ultime settimane ha sempre vinto a mani basse ogni televoto. Conquistando ampi margini di distanza rispetto agli altri concorrenti, ma che ora potrebbe vedere messo a repentaglio il proprio primato e potrebbe essere quindi messa in crisi da questo eventuale sorpasso. Nei sondaggi social, crolla Antonella, al momento la concorrente ottiene solo il 18% delle preferenze. Mentre Antonino si ferma al 12% e risulterebbe essere favorito per l'eliminazione di questo giovedì sera. In attesa di scoprire quale sarà il verdetto finale del pubblico del GF Vip, in queste ultime ore Antonella si è ritrovata al centro delle polemiche per dei post al vetriolo pubblicati su Instagram dal suo ex fidanzato Gianni Luca. Il ragazzo, dopo essere stato lasciato in diretta nel corso delle puntate autunnali di questa edizione, ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto rivelando dei retroscena legati all'esperienza di Antonella. Secondo Gianni Luca, la concorrente si sarebbe sostanzialmente preparata dei copioni scritti prima del suo ingresso nella casa. Lasciando intendere che Antonella stia seguendo un canovaccio scritto e ben studiato per stare al centro delle dinamiche di questa edizione. Rivelazioni che non sono passate inosservate tra i fan sociale, a tal proposito. Non si esclude che nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip, possa esserci spazio per un confronto diretto tra Antonella e il suo ex fidanzato. Grazie. 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 Grazie a tutti.